L'eterna lotta dell'uomo qualunque con la propria caducità, partendo dai primi di corpi di infanzia fino alla frustrante contemplazione nel proprio decadimento fisico. Questo uno dei temi di Everyman, il romanzo di Rossa Quintenza e Philip Roth pubblicato da Giuliano. Solitudine, impotenza e rabbia necessariamente soccondono davanti a tale degrade, ma tutto riacquista proporzioni di normalità. Philip Roth, vincitore del premio Pulitzer nel 1997 con la pastorale americana, ha ricevuto la National Medal of Arts alla Casa Bianca nel 99 e nel 2002 la Gold Medal per la narrativa, il più alto riconoscimento dell'American Academy of Arts and Legends. Recentemente ha ricevuto i due premi PEN più prestigiosi, il PEN NACABOP Award nel 2006 Ben Solbello Award for Achievement in American Future.